massimiliano mollicone fa un'importante precisazione e parla di vero amore si lascia poi sfuggire una grande rivelazione cosa ha detto l'ex tronista ad attirare l'attenzione del gossip nelle scorse ore massimiliano mollicone divenuto noto nei mesi scorsi per aver partecipato a uomini e donne nei panni di tronista l'ex tronista era approdato nel programma di maria de filippi con la speranza di trovare l'amore ea quanto pare c'è davvero riuscito da circa un mese ha lasciato la trasmissione insieme a vanessa spoto e da quel momento i due non si sono più separati sui social si mostrano più innamorati e complici che mai in un'intervista rilasciata al settimanale tv mia massimiliano mollicone ci ha tenuto a chiarire i dubbi di coloro che ad oggi non sono sicuri che tra loro funzionerà dopo aver fatto un'importante precisazione l'ex tronista ha anche svelato una grande novità che riguarda la sua storia d'amore con vanessa spoto nel corso delle intervista massimiliano mollicone ci ha tenuto a chiarire che tra lui e vanessa è amore vero le sue parole hanno conquistato i suoi tantissimi fan sia lui che la fidanzata sono talmente sicuri dei sentimenti che provano l'un l'altro che hanno già preso un'importante decisione di che si tratta a settembre la coppia andrà a convivere l'ex tronista ha fatto sapere che lui e la fidanzata si divertono molto insieme a detta sua tra loro c'è una grande passione e una totale intesa ha poi ribadito che se tutto continuerà così a settembre vanessa lascerà prato si trasferirà da lui a nettuno procede quindi a gonfie vele la storia d'amore nata nelle scorse settimane tra massimiliano mollicone e vanessa spoto a uomini e donne i due oggi sono davvero felici e innamorati e non hanno paura di compiere passi importanti come la convivenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti